Allora, Fabio Martinelli, match winner di oggi, ingresso determinante della panchina a colpo di testa che vale il secondo successo in queste triangolari di finale e il biglietto per Portola di sabato. Come ci si sente? Siete a carica? Sei contento? Un'emozione bellissima. Non mi affrettavo neanche di fare un gol così importante. Sempre sperato di fare, sono piccolino. È arrivato il momento e tutto lo va. Parla già da calciatore. È anche uno dei più giovani della squadra. Uno dei più giovani della squadra. Sono uno dei più giovani. Sei contento? Detto il principissimo. Ok. Per sabato ci aspettiamo, minchia, partita tesa, che entri e poi vai decisivo anche sabato. No, no, sabato sono già dentro. Sei già dentro sabato? Sono già dentro sabato. Sei sicuro? No. Ah, ok. Mi spero. Dai, però mi è sembrato un bellissimo gruppo. Sì, no. Vi aiutate parecchio in campo. Sì, sì, ma anche fuori. Già di tempo. Tutti amici, non ci sono gruppetti nella squadra. Una squadra unica. Dai, perfetto. Complimento e allora. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.